Guardate che sta facendo, sta registrando e io devo stare fermo, zitto, perché lei deve vedere il grande fratello, vedi come gli hanno fatto il lavaggio del cervello, gente magari lo odia il grande fratello, però è quello che gli hanno fatto a lei, e io devo stare zitto, non mangiare, non dire niente, perché lei deve commentare il grande fratello, vedere le parole, ore ore, sono molto grato per questo, sento amato, e devi esserlo, devi sentirti amato con umidità, con grazia, ma sento che ho avuto una grande esperienza, grazie, grande fratello e tutti quelli che mi hanno salvato, bene e grazie per tutto, dal profondo del mio cuore. Grazie, grazie. Grazie, sei un Signore, sei un Signore vero, grazie a te, per la tua umanità e per il tuo stile e per il tuo garbo, che un programma come questo vale tantissimo. Io non ho visto, sta registrando, sta registrando quel telefonino, il grande fratello nella televisione deve commentare e fare capire alla gente, ore e ore, una puttanata del grande fratello. Ma c'è una gente per essere, fanfaroni, siete dei fanfaroni, oltre che ciarlatani. Ha visto che pazza, ha la televisione, muto, muto, il grande fratello, qua io devo commentare. Perché la faccio vedere, mezzanotte, perdere i tempi, la gente è bruciata, non ho visto come l'hanno combinato. Sta passando a qualcuno, l'ha collegato, su cosi, sta dando lezioni di grande fratello contro, contro, a favore di, ma siete fanfaroni, ciarlatani, vedi i paesi sotto sviluppati e inviluppati, la mafia, il terrorismo, ne è puttanato, anche persone perse, proprio. Buonanotte. Più che riempirsi la testa di cose finte, che cosa devono fare. Si fanno fare il lavaggio del cervello, vedo? Cervello. Colina, eh? Buonanotte. Che gente, picciotti, che soggetti, che personaggi, tutti abbindolati, imputtanate. Senti, 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 sta discutendo lei sul coso del grande. Svegli sulle graticole, sono bruciati. Mi chiedo, ma come si è potuta fare combinare così? Come si è potuta fare combinare? Cioè, quante me ne hanno fatte a me, dovrei essere là a discutere del grande fratello, bulli e pupe, uomini e donne. Questo è quando la gente sono fanfaroni e non sanno che fare. La cercano da qualche parte dove cercare di fare discussione. Ma non dove gli servono veramente. Non nelle cose che gli servono veramente. Fanfaroni, gente persa. Questa persa, ma che cazzo li... Come si è potuta fare combinare così? Abbindolati. Buonanotte. Pensiamo a un futuro più vero.